we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono chiuder e ragazzi la domanda che tutti vi state facendo dopo aver fatto la modalità fai centro in centro è dove cavolo sono le scarpe e i palloni da basket ragazzi vi do un paio di posizioni che potrebbero servirvi la scarpa una si trova qua sotto ragazzi nella fogna come vedete basta solo passare sotto al camion siamo proprio all'inizio della partita entrare qua sotto nelle fogne e come vedete ragazzi rallentando un pochettino eccola qua l'avete vista l'abbiamo appena passata ragazzi c'era una scarpa uscendo lì in alto a destra c'è il pallone da basket in mezzo al cerchio di fuoco ve lo faccio vedere un po meglio e ce n'è un altro oltre lì anche qua sopra ragazzi dove c'è il cartello li vedete i due palloni da basket quindi potete tranquillamente prenderli andando avanti ne troverete altri ragazzi che se non ricordo male sono sopra un lampione dovrebbe essercene uno qua vicino eccolo qua a destra sopra questo lampione ragazzi come vi sto facendo vedere vi ricordo che ovviamente dovete fare più partite per ottenerne 50 quindi vi consiglio una volta che avete memorizzato le posizioni delle scarpe e dei palloni da basket di rifare sempre la modalità qua in mezzo al cerchio ce n'è un altro come vedete stiamo proseguendo e siamo vicini siamo sotto al ponte di ferro andando avanti ce n'è un altro ancora qua in alto lo vedete lì sopra ragazzi eccolo qua e secondo me quelli importanti io ve li ho detti perché poi da qua si torna giù e si ricomincia il giro quindi ragazzi concentratevi sui palloni da basket rifate più volte la modalità in modo da poterli prendere insieme alle scarpe da basket e quindi portarvi a casa i sugosi premi che ci regalano anche questa volta io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao